Eh no, è qua, è nel tuo zanetto È pieno di zanetto Ma cosa c'è questi zombie? Eh mo, è zombie mania oggi Meno di merda che c'è qualcosa di più Vabbè Hai Dove sei nota? Penso ti sei beccato di risulti che non c'è la mira eh Eh no Cosa è chi? Cosa è chi? Non lo so Boh Sono sicuro No, non riescono a scrivere Vabbè Ma non è vero esso Lo so, Giavica Ah Mi stanno mangiando le zanzare Ragazzi c'è zombie dentro Sto arrivando Tira 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 Ragazzi se ti piace giocare è brother a seconda No 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 Ho la carta che era nello zaino No C'è un aerello, vieni a prendere Si Si Non c'è più pompo perché era nello zaino E lo zaino è il fuoricasa era Ma quello di prima di zaino non questo ultimo Non c'era un pompo in questo ultimo Poi se si dice che hai scaricato tutto il barricatore di pompa Ehhh, si C'è uno zaino pieno che lo vieni a prendere E io non posso, arrivo subito Niego I까지 Ge Ha Un 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 Raga tutto quel cazzo i vestiti Scraptatevi che tanto non ce ne facciamo un cazzo Se no occupano solo spazio Guarda Guarda Non stiamo facendo un cazzo ancora Poi lo dice che doveva sistema la rampa sta facendo un cazzo Non ho capito che sta facendo casa Quindi bisogna dire per il cemento Eh non lo so, avevo mai preso C'è un airdrop più qualcosa che mi è andata a prendere Cercate il cibo Cibo? Vabbè abbiamo la carne dell'orto possiamo cucinare Potreste cucinare la carne dell'orto Con le uova sai come è buono Andiamo a fare un livello troppo Comunque la città è ancora da scavengiare Viva non l'abbiamo scavengiata E io sto qui lo sto facendo Tanto non so mai cosa cazzo fare Quindi scavengiare ci sta Beh C'è due agio Se mi dite cosa vi serve magari faccio più attenzione a quello Beh con la carta ci facciamo la munizione Poi per il resto io direi di fare le moto E dici Iniziamo a togliere i materiali per fare le moto E vabbè moto abbiamo una cifra di batterie Ancora stanotte Quella notte Non può essere Ancora quella non può essere Che c'è Che giorno c'iamo? Cinquantottetimo giorno Eh mi sa di sì brazza Tutti inglesi sono quelli che lo fanno infatti Vabbè appena facciamo un'ora Io poi stacco Perché comunque domani devo alzare Pure ci sta Una live di prova ci sta Ma perché appena esci magari Poi Appena esci si è buggato Già ti può stare la voglia Ma tanto poi ci abbiamo ora domani Dobbare Ma se lo scaricano Entro oggi Cioè se ci arrivano a scaricarlo Domani proviamo Star Trek E vediamo se è una boiata Oppure no Anche se io penso che sia un Neverwinter Solo con la grafica di Star Trek Ne abbiamo Di giochi da dare Ne abbiamo Perché comunque ne abbiamo assai Ho già preso tre Air Drop Ci piace fare le faccine Abbranza Allora Allora Mi faccio capire il simbolo Allora Che 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 Ah, quando non borsa fuori, raga, soppure che vogliamo. Oh, è giorno. Oh, dai. Pappo, che cazzo hai fatto tu? Cazzo vuol dire? Non si può dire in live. Ma va, 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 va. E' quello fado. C'è una cazzo di mentale che non riesco a uccidere? Mi sta scopando tutti. Oh, un campeggio. Enzo, che cazzo state facendo? Io sto cazzeggiando. Cioè, io ho preso gli airdrop e sto cazzeggiando. Esattamente, è proprio lì che volevo arrivare. No, io avrei metto a costruire la rampa. A me mi stanno attaccando, non ho capito chi c'è. Oh, no, no. In casa è pieno. È pieno in casa. Allora, hai fai a scopare qua. E' un metro mon compte. Vai via. Vai via. No, no, no. No, va a essere in casa. Io venito a sparare. Vivo. Cosa va, cazzo? Ho vi un braio, ho vinto. E' un braio, ho vinto. Hai. stai squattariando? ahhh, sopportare se c'è il cane che è quello che sputa è un blocco di nerf ahhh, sopportare se c'è un blocco di nerf ahhh, sopportare se c'è un blocco di nerf